Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Satasei e benvenuti a questo nuovo episodio della Pixelmon Ho incontrato Ema nel server che stava cercando dei piccoli Pikachu, giusto? Eh, l'ho trovato, l'ho trovato uno Ah ok Perché le Glowstone di prima del... Sì ragazzi, li sta uccidendo, è una persona cattiva Nel frattempo io ho scritto qui Grottle, perché stiamo cercando un tank Nel senso nei commenti di se un tank sarebbe ottimo E infatti è quello che sto facendo, sto cercando un piccolo tank Amato Grottle, che è tipo il Pokémon di quarta generazione, o sbaglio? Sì, quarta generazione di tipo... Foglia, erba, qualche cosa Che è molto importante, quindi lo stiamo cercando un po' in giro Nel frattempo abbiamo il nostro bel Growlite che deve aumentare di livello Quindi troverò dei Pokémon con le 8 Mi sembra che devo andare nei Boschetti, sì Dove stavamo cercando prima E ma oggi è pomeriggio Quindi dobbiamo un attimo cercarlo meglio Andiamo nei Boschetti perché lì ci sono i Pokémon con le Otteri E quindi possiamo scioltarli molto velocemente Farevo avere il mio Growlite in Arcanine Solo al 45 perché poi non impara più mosse Mi sembra, quindi giusto farlo imparare di lì Poi siamo a posto come livelli abbastanza alti Allora, vediamo un po' Pokémon con le 8 non se ne vedono più Perfetto, siamo sfigati quando dobbiamo trovarli Quando tipo non ci servono Non c'è l'Euli? È un po' in giro, sono vicino al centro Pokémon Che vedi sulla mappa, sulla destra No, sulla sinistra di questo centro Pokémon sono io Non so se lo vedi il centro Pokémon Sei troppo lontano tu Vai prima, stai dietro Eh, allora, dimmi tipo, voglio prima Allora Opla Cerchiamo un attimo un paio di Pokémon Dovrei anche fare evolvere Buongiorno, buongiorno Dovrei fare evolvere anche PG8 Più presto possibile Troviamo un postino Eh, ecco lì, 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 lì dentro devo andare ragazzi Ecco Prima stavo in questo boscetto, presumo Ho un altro boscetto simile Comunque qui dentro la parte migliore è far evolvere i nostri Pokémon Sia di tipo volante che di tipo Si fa schifo come boscetto A proposito, mi ha fatto notare che io non lo sapevo Il Flygon posso cavalcarlo per volare Si, lo fa sempre Xander Sai che non lo sapevo? Andiamo? Io invece voglio il mio Pidgeon per forza Guarda che figata Perfetto, andiamo alla ricerca di Pokémon con gli ottero ragazzi Li troveremo? Speriamo Fa tempo Si, dove trovo il coliotero Perché con gli ottero sono i più semplici Guarda l'Istero, è proprio dall'alto Ciao Ok, perfetto E la mia mano sembra sia Non so Sia tipo uscita pazza Abbiamo un Cryogun Un Cryogun In teoria il fuoco fa male contro il ghiaccio Mi sembra di sì Mi sembra il contrario Mi sembra che Boh, vedi un po' No, fa male Non fa niente male Ranna, ranna, Growlite No, Growlite Growlite, esci Vai via Growlite, via Via Growlite, porca vacca Ho detto via Ho detto Taram No, no, no Ok Ranna, ranna Perfetto ragazzi Niente, Growlite Facciamo provare il Pidgeotto Vediamo che la mia idea Niente, Growlite ha preso mazzate In effetti combattere contro il Pokémon livello 15 Ce n'è stata un'ottima idea Per niente proprio Allora Eh Il Pokémon livello 8 Cioè, abbiamo visto Un sacco Ho sbaglio Eh, ma Però non riusciamo più a trovarli Ah, ho trovato Quei verdi sono quei Pokémon che cerchio Che cerco C'è un Tartwig qui Che ha un Grotl Che poi possiamo far evolvere in Tartwig Vediamo un po' Abbiamo le Pokéball Se lui Abbiamo, sì Abbiamo Gritball 16 Facciamo veloce Prima che scappa Dove beh essere qui dentro ragazzi Facciamo veloce E tanto tipo Ho visto un paio di episodi vecchi Che ho trovato un Tepic davanti a me Senza che me ne accorgessi È una cosa bruttissima Oh, intanto ho trovato Glowstone a casa No, ho trovato un Pharaoh Che però non mi interessa Cioè dovevo scappare Dov'è? Dov'è? No, mi dice che è verde Ah, Grotl Ma Grotl è l'evoluzione Eh, mi sembra che è Grotl Eh no, è Tartwig era Tart Eh, Tart Madò che bello Tartwig Insomma Tanto ragazzi Ho qui il mio telefono Fido maestro che Ricerca adesso Su internet Veloce Veloce su internet Allora, mi dice che era Turretwig Allora, è Tur Aspetta, vediamo un po' Turret Wig Ok, perfetto, così Ok, noi cerco anche di Tartwig Allora Eh, ma se andiamo a dormire Infatti andiamo a cercare di Pokémon Ho un Vulpix Se l'ho trovato anche Brabbene Sembrava un Vulpix È un Vulpix infatti Però sto anche il Poké Esatto Così non riusciamo a trovare Eh, se no Vabbè, è interessante Serve Io ce l'ho di inventario Però è inutile Da un certo punto di vista Attento che se faccio Shift Vedo anche i Pokémon Che ho trovato Tipo No, non è bugia È una stronzata Buono, ho detto Shift O qualche tasto Mi sembra Per vedere anche i Pokémon Diversi No, quando li catturi Mi sembra Poi inizi col Pokédex Sì, solo Cioè, li vedi Stanto quelli catturati Ma è quelli visti Ah, quello Ho capito Eh, sì Perché è un po' diverso Lì perché Cioè, non so Come funzioni Sicilamente Il database di Pokémon Su questo server Però Cioè, su A Pixelmon generale Però In teoria dovrebbe essere così Vabbè, ma io direi Qui c'è un centro Pokémon Volevo andare a casa prima Sì, andiamo a casa dai Oh, vuoi Andiamo a casa Andiamo a dormire Andiamo a casa Guardate ragazzi Quanto siamo lontani Giusto per dirvelo Cioè Bam Ok C'è una nanna Ouch Eh, l'ultiletto ce l'ho Ma te no Eh, abbiamo una nanna È nella cesta È qua No, si è fottuto Luke È qua, qua, qua Ah, c'è Ah, pensavo si è fottuto Luke Perché Luke Ho visto, l'ho controllato Esatto Cioè, avevo visto Ho visto che l'aveva visto Pensavo che Sono fosse fregato Ah, ragazzi Vedete Qui Set game difficult to be useful Perché Quando si deve al server Non avendo settato Dalle impostazioni del server Devo farlo manualmente A inizio Di ogni riavvio Quindi Tipo Appena avrò voglia e tempo Lo farò anche dal server principale Quindi tranquilli Lo faremo Lo faremo Ok Allora Vediamo un po' Coleotero Coleotero Dove li posso trovare I Pokémon Coleotero Oh, eh, questi qui Paras non dovrebbe essere un Pokémon Coleotero mi sembra Paras Mi sembra Mi sembra di sì Dovrebbe essere Coleotero Veleno Mi sembra Cosa del genere Pokédex Magari però riesco a beccarlo Paras Stai fermo Due secondi Bigiotto Hai una mira di merda No, Bigiotto Una mira di merda Ok Ok, Gust Mi ha detto che Turbine Ok, sì, l'ho one shotato Perfetto No, stai dito Non si fa Ok, Venomante è un Pokémon Coleotero mi sembra Anche No, un Pokémon veleno Erba Mi sembra Comunque lo devo uccidere Ah sì, ho fatto un sacco di male Perfetto Nice Ok, livello 30 Il nostro bigiotto Ne mancano ancora 6 livelli Giusto? Sì Per fare evolvere Il nostro Pokémon Dimmi Guarda Che brutto Che brutto davvero Non mi è mai piaciuto Quel Pokémon Per quanto riguarda La bellezza Insomma Sono razzista No, è razzista Beh, diciamo Sì, dai Non fa nulla Allora Ah, ragazzi Me l'avete detto Anche nei commenti Che dovrei fare evolvere Il nostro Poliwag Shiny Allora, guarda qui C'è un'evoluzione Di Poliwag Cioè C'è Poliwag Poliwag C'è lo gigante Gigante, gigante Che è molto OP Quindi Poi faremo evolvere Perché c'è un corso Drauzi Che piccolissimo Ah, poi ho detto Anche che i Dra- 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 Drago No, come si chiamano I dra- Dratini Sì, i dratini Ecco Droppano i diamanti Quindi questa cosa Potrebbe essere interessante Per di Per fare una farm Di diamanti Ecco, perché ti avevo detto Ti ricordi che ti avevo detto Che hai trovato Di diamanti per terra Di diamanti per terra Allora erano i dratini Esatto, erano i dratini Quindi è buona Come cosa Grazie 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 chi l'ha detto Esatto È molto buona come cosa E io ho trovato Un sacco di dratini Una volta Tipo Mentre viaggiavo Voi ti farò vedere anche dove Doveva essere Ce n'è ancora un paio Quindi è buona cosa Allora Em Em Who Em whom Allora Direi a sto punto Visto che non riesco a fare Evolvere nemmeno PG8 C'è Il deserto Direi prima di tutto Facciamo evolvere Croconow Che a sto punto È il pokemon più semplice Da fare evolvere Perché siamo vicino al deserto E a sto punto Facciamo così Facciamo l'evoluzione del 36 Ce la facciamo in questo episodio Magari Nel caso Lo facciamo Continuiamo nel prossimo Ok Vediamo un po' Trancip Perfetto Dovrei ucciderla con watergun Ah c'è pure rabbia addirittura Che è molto OP Come cosa Oh Giosanto Fa un sacco di male Però Tipo come livello 44 La croconow Sì è abbastanza carino È grande anche Però è che mi fanno male Sti cosi Tre pinch Ok Trampi Oh bello Ho fatto un altro livello Ho fatto Vediamo un po' Ragazzi Questo livello Il bambino Col panolino Mi fa il culo Mi fa il culo Prova battolo Prova battolo Prova fare il culo Non so certo Eh diventa Questa porta Oh ti ho fatto Quasi ho incertato Quasi ho incertato L'ho ucciso Eh bella roba Ma mi ha dato un paio di robe carina Eh ma Ok sono un attimo Crasciato Eh ma è crasciato C'è stato C'è stato un sacco di roba carina Mi raccomando Mi raccomando Acquare si vede L'impidenza E' quella città Non si vede Non si vede Ok Ho droppato poi di robe interessanti Tipo etere E full heal Che comunque è interessante Full heal Duttrio Numero Ok ci diamo questo numero Livello 21 Che dovrei tipo Unshotarlo Ah comunque se volete Fatti lo quasi one shot Ho visto prima Oh merda Manitutto nome mi ha fatto Emma Giusto Uli Eh Del server se lo volete È hidden Sì sì Ma guarda un attimo Beh full heal non funziona Full heal Ah Questo è quello che leva a tutto È vero vero Quello che leva a tutti Vistati giusto Stronzate ragazzi Faccio una grande stronzata Eh il problema è che mi servono delle pozze Ma dobbiamo andare Oh a ricoperare un po' di robe C'è c'ho feeder e gunpowder Ce l'avevo Ce l'avevo Ce l'avevo Uli Nel Però a casa Dovrei prendere Un po' più Tipo questo numero Livello 19 Dovrei one shotarlo Con No merda Ho preso quello del 22 Per favore Dimmi che non mi fa nessun Beh che schifo Ma sai che Sai che culo ho avuto Tipo una merda di HP C'aveva Morta cosa ragazzi Morta cosa Eh No ok Perfetto One shot È morto È morto Eeeh Ma dobbiamo Trovare un centro poco Velocemente Mi ha deciso entrambi No vabbè Però c'è ancora PG8 Eh ho trattato il boschetto Trattato il boschetto Xander Moema Buono Buono Ui villageri Villageri c'è anche il boschetto In boschetto ci sono i pokemon Quelli 8 Che cercavo prima Per il nostro PG8 Nice 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 Una domanda che ci faceva Piccolo Xander era Come facciamo a evolvere Cioè a fare Evolvere No evolvere Livellare i pokemon Dopo livello 60 Ricordiamoci che su pokemon Dopo livello 60 Non trovare allenatori più forti Tranne tipo I super 4 Però I super 4 non erano tanto Interessanti Soprattutto Era un po' difficile Non li battevi con livello 60 Sì ma non li battevi con livello 60 Sicuramente Cioè dovevi avere Almeno un po' Ma man mano che andavi avanti Aumentavo di livello Sì Ma Ah Sicuro Io ho giocato fino al Ho giocato fino al Terza generazione E tipo lì non aumentava Era forse Quelle dopo Quanto alla quarta Già Mi sembra che allora Da rubino Il governatore Era livello 40 Della lega Verso 40 No 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 Rubino era un po' più alto Mi sembra eh Non ricordo Quello non aumentavano Ma comunque più o meno Il livello 60 Erano Ok ho trovato Un Vifersprime Quello che hai insomma Quello che hai tu Come uccido Cattiveria Bello Sprout Eccolo qua Bello Sprout Oh bello Sprout Ok Facciamo Magare Victor Bello adesso Odis Ok perfetto Facciamo Gust È livello 8 Vabbè sì Ciao Che esperienze Ho per 66 Che merda Ok Oh un Odish Livello 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 Odish che livello Sei 12 Ma dai Pagano un po' più alti No eh Un po' più fighi Eh Ma si va Monkey Sei stronzo Allora Allora Ho sciotato Monkey Ma se metto un attimo Eh Ok perfetto Ma so come primo Pokemon PC8 Odis Stai zitto Che poi ti ammazzo Il Pokemon è quello Che Pokemon ho trovato Pokemon carini Tiger Shite Oh shite Uno dei Pokemon più forti Mi ha pare Mi ha sfidato Lui mi ha sfidato Eh prendi Mi ha fatto un gruppo Di Bello Sprout Ho trovato Mi interessa No io li uccido No perché è lui No L'amazzano No Bello Sprout Livello 16 Eh vabbè Sì io li uccido Tanto comunque sono Esperienza Sì vabbè Che se ne frega Uccidiamo tutto Adesso 257 257 No 337 Ce n'è un altro Pigiotto Vai pigiotto Uccidi tutto Adesso I tuoi simili Sono morti Ah sì Ah sì Vuoi fare il combattimento Vuoi combattere Oddio Quanto Cambia idea Cambia idea Passo avanti Ammazzolisse Troppo alto come livello E non so bello Sprout Vai livello 20 Che dici No 19 Eh vabbè Vabbè comunque Dai Se non attacco Oì Piccolo lag Vabbè sta lagando Eh sì Anche a me Ma da una scattina anche a me Ok i dettagli Eh sono già anche Non esplorati Quindi non ho male No no vabbè penso Vabbè non lo so Uccidiamo un atomistico Sì odici L'Iron L'Iron Non ho mai visti L'Iron Mi ha visto un sacco Eh sì Sì sono difficili da trovare Stavano più o meno in pianura Noi non abbiamo mai pianura Diventa un bel tirannitar Che figliata Tirannitar No diventano Aaron Cioè no Eh agron No 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 diventano agron Poi Aspetta qual'era Mi so confondendo un po' Era tirannitar Tirannitar Era tipo Quello Pupiter Sì esatto Quelli sono Aaron L'Iron E agron Avevano i nomi più belli del mondo Insomma Dio santo Rhinorn Che mi attacca Ma sei serio? Oh c'è un machok Ma sei serio? Quanto è piccolo Quale? Quanto è piccolo Dove sei? Ma Ho trovato anche un machok Io Quanto è piccolo Ah è grosso Cavolo è piccolo Eh beh beh Più o meno è grande Cioè Boh non è piccolissimo Ma sai che non abbiamo fortuna A trovare adesso Uh che bella Questa caverna Guarda quanto Quanto alluminium sta là Però non mi serve Il momento ragazzi Niente 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 Ecco Xander che ci Oh è arrivato Xander Che adesso Lo faccio mangiare da Vicky Oh ho trovato un pokemon bellissimo Ho trovato Hitmoley Uh Hitmoley Bellissimo Bello bello Io mi ricordo che tipo Facevo volvere Sempre nell'altro Hitmonchan è molto più forte Che Hitmoley Ma mi piace di più Mi ricordo io avevo Oh Miltank Miltank Ciao Eh sì 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 Quale volevi Perché tipo Sì aspetta non sbaglio Quello è Sì il rosso fuoco era Eh Sono bello Era quello che Eh Da cui c'era in Giusto un po' più indietro C'era Cos'è qui lì dentro Che c'è Nessuno Eh dicevo lì dentro Se non sbaglio C'era un C'era l'acqua Tipo A poca distanza Sono ricordo male C'è un esemplare Di Xander dietro Lo posso catturare Sì catturalo Usa le ultra Bolle Le Trovo qualcosa Guarda come si vanta Con quella Bannalo Bannalo Uccidero Slash kill E poi lo uccidi Molto semplice Masterbowl whatafu Ah fottv Fottv Che vuoi gbg Ma allora Mi sono messo in mezzo Ok niente ragazzi C'era c'era poco Inutile Però noi Nel trasaltro Niente Xander Xander inutile Entra lui Non troviamo più poco Interessante ragazzi Se è arrivato Xander Basta Basta Niente Combatti Guarda ragazzi C'è combatti Lui c'era poco Ma 60 Guardalo Guardalo Ti lascia Io combatterei Eh no Ho preso però La mia arena ragazzi Ci sto per precisare Non lo sfido Per non umiliarlo Io Perché sei poco Molto Solo Già sta iniziando A fare una piccola arena Un primplup Ho trovato Però non mi interessa Di uccidere Perché è molto brutto Quel primplup Un zitto primplup Lo posso ammazzare Oli Se vuoi si Uccidilo Eh il 58 Sto cavolo Lo batti Si certo Ce la farai mai A batterlo Sappilo Tipo Il pokamostroppi E' uno dei pochi Che sta molto Molto più avanti Rispetto a noi Oh finalmente Il pokam con le 8 Livello 6 Ma porca vacca Che merda Oh se guadal Ragazzi questo pokam E' bellissimo da vedere Però lo uscirò Perché mi piace Oh livello 31 Sai che sono soltanto Qui da livello 4 Livello 6 Che brutta cosa Ah un altro livello 16 Vabbè Lo uccido Cioè sto comandando Con il livello 16 Ci teniamo conto Quanta esperienza Dovrò fare Prima di livellare Al 36 Ah mi devi avvisare Ma per l'orario Perché non riesco a vedere Tutto qua Ah massimo Poi tagliamo Dai Eh si Ma io non ce lo voglio No ma tu Ora mi direi Quanto minuti siamo Che di Alexander Non lo so Come non lo sai Bene Ah Ok che c'è Ah metapod Inutile Allora massimo Ne rubiamo l'episodio Così nel prossimo episodio Esatto Guarda ragazzi Nel prossimo episodio Continuiamo ad andare avanti Uh aspetta aspetta Ho trovato un po' Come livello 37 Ma lo ammazzo Con il coso Faccio un sacco di esperienza Ok nel prossimo episodio Ma no non li levo niente Non li levo Alexander sicuramente Ok aspetta Aspetta finisco Andrò di uccidere sto tizio Merda mi fa un male Assurdo Oh merda Mi leva un botto Mi leva Vediamo se non mi uccida Speriamo che non mi uccida Eh ma ho ucciso Ma porca vacca Zoroak Fai vedere le tue Mosse speciali Fai vedere quanto si OP Full play Fai full play Ma ho asciutato Ma quanto si OP Zoroak Quanto si OP Curo i pokemon Perfetto ragazzi Curo anche io i pokemon E continueremo nel prossimo episodio A uccidere un paio di piccoli amici Infatti un po' Cerchiamo di far andare a dormire Alexander Così potremmo cercare ancora Nella foresta Allora al prossimo episodio Ciao ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 ciao